I want to dance Credo che il lavoro che Lindsay ha fatto con David Bowie abbia veramente preparato la scena per David per tutta quella serie di alter ego che Bowie ha creato dopo Ziggy Stardust e dopo l'esperienza con Lindsay era una maria tra David Bowie's music, vision, e mio amore di teatro di avantaggare e mio amore di vision I want to dance